Invadiamo la Torre di Manfria, è l'iniziativa che si darà domani dalle 16 alle 20, promossa dall'Archeoclub di Gela. Guidati dai soci, i partecipanti potranno gustare la storia e le leggende che riguardano la spettacolare torre di avvistamento e segnalazione, i cui lavori iniziarono nel 1549 e furono completati nel 1615, che è stata una delle torri costiere più importanti della Sicilia. Abbiamo approntato tutta una serie di situazioni per la sicurezza, perché dobbiamo sapere che questa torre è abbandonata, totalmente abbandonata, è di proprietà privata e di conseguenza con l'avallo del proprietario abbiamo realizzato questa situazione di sicurezza in maniera tale che tutti possono venirla a visitare, è proprio una invasione vera e propria. Nell'ambito dell'iniziativa di domani sarà avviata anche una raccolta di firme per chiedere l'esproprio del bene per pubblica utilità. Le drammatiche condizioni in cui versa la torre rischiano infatti di impedirne la conservazione per le generazioni future. Questa torre dovrebbe essere acquisita dall'istituzione, infatti il motivo di questa invasione della torre di Manfria che faremo domani è quello di raccogliere delle firme per invogliare l'istituzione comune di Gela e l'istituzione regione siciliana per l'acquisizione di questa torre. La torre e il terreno sono di proprietà private e di conseguenza bisogna trovare un sistema per far sì che questa torre faccia parte del pubblico di Manio. Anche perché così facendo sarebbe fruibile a tutti? Ma non solo, si recupererebbe una delle 37 torre più importanti delle 200 che costituivano quel sistema di controllo e segnalazione che nel giro addirittura di un'ora andava a toccare tutti i porti della Sicilia. Ovviamente stiamo parlando della torre di Manfria come torre di segnalazione, infatti era collegata con la torre di Falconara e con la torre dell'insegna che adesso non esiste più e con la torre di Santa Croce Camerina. Poi attraverso delle torri intermedie, quella dei padri Cappuccini e quella della Chiesa Madre si avvisava la città e la campagna circostante in modo tale che quando si avvistavano le navi sarecene e le navi pirate la popolazione veniva messa a sicuro.